Dopo l'8 settembre del 1943, l'Italia è occupata dall'esercito nazista e dall'esercito della Repubblica Sociale di Salò, fino alla fine della guerra, fino all'aprile del 1945, cioè la fase più cruenta della Seconda Guerra Mondiale, dove vengono uccisi circa 24 mila civili italiani da questi due eserciti in combutta, in 5.600 e passa eventi. La Toscana è stato uno dei territori più colpiti da questi accadimenti, perché in Toscana e in Emilia Romagna, nelle Marche passavano dall'inagotica, quindi il punto di difesa massimo dei nazisti in Italia dopo l'armistizio. I morti civili in Toscana furono circa 4.500 in 800 eventi. Molte donne, molti bambini, molti uomini che combattevano o che non combattevano per la libertà, ma che vivevano la loro vita durante la guerra. La Regione Toscana, su proposta dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, ha recentemente pubblicato una collana dedicata alle stragi nazifasciste in Italia, sono usciti i primi due volumi, editi da Viella, La difficile giustizia e Sant'Anna di Stazzema, i cui autori sono Marco De Paulis e Paolo Pezzino. Oggi abbiamo con noi il procuratore Marco De Paulis, grazie di essere venuto ospite qua della Regione Toscana. Marco De Paulis, romano, 57 anni, magistrato dal 2002, magistrato che dal 2002 ad oggi ha istruito molti dei processi ai colpevoli di queste stragi e ha diretto le procure militari prima di La Spezia e oggi, ancora oggi, è a Roma. È stato fra l'altro pubblico ministero per le stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema, Civitella Valdichiana, Montesole Marzabotto e anche per l'Eccidio di Cefalonia, che fra l'altro è il libro che sarà pubblicato a breve all'interno della collana. 450 procedimenti giudiziari, 80 imputati, 57 ergastoli in primo grado. Nel 1994, durante le indagini commesse dal criminale di guerra Erik Prigbke, viene ritrovato a Roma, presso la procura militare a Palazzo Cesi, il famoso Armadio della Vergogna, che conteneva 695 fascicoli con timbro del 1960 e dicitura archiviazione provvisoria, nome di vittime e di colpevoli, date in luoghi di migliaia di eccide e danni dei civili. Si tratta di una vera e propria emergenza giudiziaria, come lei la definisce nel libro. Procuratore, quali sono a suo avviso i motivi per cui per tutti questi decenni questi faldoni sono rimasti sigillati all'interno di questo archivio e solo nel 1994 si è deciso di aprirli e iniziarci a lavorare sopra? Le motivazioni di questo occultamento che avvenne nel 1960, di centinaia di fascicoli relativi a altrettante centinaia di stragi di civili e di militari commesse in Italia e all'estero dai tedeschi, sono motivazioni che ormai gli storici attribuiscono a ragioni di carattere politico, alla cosiddetta ragione di Stato. Si era in una fase storica, quella ormai a 15 anni dalla fine della guerra, nella quale i scenari politici erano mutati, c'era la guerra fredda, c'era il blocco sovietico contrapposto a quello occidentale, c'era una necessità, una volontà di aggregare la Germania alla sfera di influenza dei paesi occidentali, dell'America e quindi molto probabilmente questi fattori, uniti ad altri che poi ora indicherò, hanno dato una forte spinta a mettere una pietra sopra su queste vicende. Vi era quindi l'interesse dei paesi occidentali a non gravare troppo la posizione della Germania, ad attrarla nella propria area di influenza e quindi a mettere una pietra sulle questioni relative alla guerra. D'altro canto c'era anche una questione che riguardava i criminali di guerra italiani, anche noi avevamo parecchi criminali di guerra che avevano compiuto crimini nei teatri esteri, soprattutto nei Balcani, Jugoslavia, Albania, in Grecia e quindi vi erano state delle richieste molto precise da parte di questi paesi per la consegna dei nostri connazionali accusati di gravi crimini di guerra. Quindi anche questo aspetto giocò perché sicuramente cercare di reclamare la consegna dei tedeschi e contemporaneamente non consegnare i propri era evidentemente impossibile, era molto difficile e quindi anche questa è una delle ragioni che gli storici attribuiscono alla vicenda per spiegare il perché di questo occultamento. D'altronde nel famoso carteggio di Martino Taviani, ministri dell'epoca degli esteri e della difesa alla fine degli anni 50, viene indicato a proposito del caso di Cefalonia, laddove appunto il nostro governo non consentì l'inolto delle rogatorie del giudice istruttore emitale di Roma dirette in Germania per avere quantomeno l'identificazione dei sospetti degli indagati per quel fatto, questa rogatoria non venne inoltrata esplicitamente, parlandosi esplicitamente nel carteggio di motivazioni di carattere politico che ritenevano non più opportuno richiedere alla Germania la consegna di questi criminali di guerra. A questo poi certamente si può anche aggiungere, come qualcuno ha fatto in particolare il professor Pezzina nei suoi studi, aggiunge un ulteriore profilo che è quello della cultura giuridico militare dell'epoca che sicuramente non aveva quelle larghe vedute, quindi quell'ampio del respiro che ha avuto poi successivamente e d'altronde era una cultura europea o se non neanche forse mondiale, non è inutile ricordare che quasi tutti i criminali di guerra tedeschi condannati dopo Norimberga, anche a Norimberga in parte e anche dopo Norimberga, sia diciamo quindi sia nei processi del Tribunale Militario Internazionale Norimberga, sia dai corti militari alleate furono praticamente quasi tutti scarcerati nel giro dei pochi anni perché le loro pene vennero condonate, quindi vennero da prima commutate e poi condonate. Quindi di fronte a questa realtà evidentemente anche probabilmente se non sicuramente anche qualche condizionamento da parte dei nostri giudici italiani o comunque più che altro dei politici italiani, governanti italiani dell'epoca si può immaginare. Può ricostruire per noi qual è stato l'iter dopo il ritrovamento, cosa accade negli anni successivi dal 1994 poi all'arrivo appunto all'istruzione dei processi veri e propri? Che tipo di materiale vi siete ritrovati in mano? Che tipo di approccio avete avuto nei confronti di questo materiale, di questi documenti? Beh, io in quel periodo ero appunto alla Spezia, ero giudice per le indagini preliminari e metà degli anni 90 appunto al momento del ritrovamento e in effetti non si sapeva molto, non c'era una grande coscienza di quello che era avvenuto. Devo dire che l'impatto fu un impatto molto scettico, nel senso che si pensava che queste carte fossero più che altro dei doppioni di qualcosa che evidentemente era stato già trattato, non si concepiva proprio la possibilità che si trattasse di un occultamento. E poi la grande frattura temporale, 50 anni dai fatti, rendevano almeno in un primo approccio questi fatti quasi poco credibili in un certo senso dal punto di vista dell'effettività giudiziaria. Quindi inizialmente queste carte vennero un pochino trattate più come dei documenti storici che dei propri documenti giudiziari. Dopo il ritrovamento di questi faldoni il Parlamento fece una commissione d'inchiesta, ma la politica in questi anni, in quegli anni vi ha aiutato o vi è stata l'ostacolo? Diciamo che forse dobbiamo distinguere un pochino due fasi, perché c'è una prima fase da ritrovamento ai primi anni 2000 in cui vengono celebrati pochi processi, quattro, c'è c'è quell'atteggiamento un pochino di diffidenza o comunque di scetticismo di cui parlavo prima. Ma poi andando avanti nella trattazione ci si rese conto che invece si trattava di cose reali, di fatti sui quali era indispensabile, era doveroso, obbligatorio intervenire. E la commissione parlamentare d'inchiesta che fu costituita nel 2003, in realtà non dobbiamo dimenticare che venne preceduta da altre due commissioni, una conoscitiva e una d'inchiesta, quella conoscitiva della Camera dei Deputati, la Commissione di Giustizia della Camera che operò nel 2001 e quella invece d'inchiesta dell'interno alla magistratura militare, della Commissione del Consiglio della magistratura militare che era ed è l'organo di autogoverno della magistratura militare che operò addirittura per tre anni, cioè dal 1996 al 1999. Ecco, quindi probabilmente questi due organismi poi gettarono un po' le basi per la costituzione della commissione parlamentare perché soprattutto poi dalle conclusioni della commissione d'inchiesta interna all'amministratura militare ci si rese conto, si parlò di un vero e proprio occultamento illegale di un'attività illecita commessa nel 1960 e quindi questo poi diede il via alla commissione parlamentare d'inchiesta. E quindi per venire alla sua domanda, ecco certamente la commissione parlamentare d'inchiesta del 2003, non tanto le altre due e anche poi il movimento di opinione che le aveva generato perché questa commissione parlamentare d'inchiesta non nasce come un fulmine a Celserino, nasce perché è preceduta da un coordinamento di circa 80 comuni, 4 regioni, appunto la regione Toscana, l'Emilia Romagna e altre regioni che avevano preso atto della gravità di questa situazione e anche un po' dell'inconcludenza insomma dei risultati. Quindi si arrivò per la forte determinazione sia di alcuni rappresentanti di questi enti territoriali e anche di Franco Giustolisi che era un giornalista e scrittore che aveva dedicato parecchio tempo a queste vicende, si arrivò appunto alla Costituzione della commissione e questo sicuramente fu uno degli elementi importanti che ha sostenuto poi la mia attività giudiziaria dal 2003 al 2008 e anche successivamente perché ha realmente aiutato moralmente l'attività giudiziaria. Lei era procuratore in una piccola città come la Spezia, seppur dalla vasta giurisdizione, ma come reagirono negli anni le varie procure militari? Ci furono delle differenziazioni nell'approccio al trattamento di questo materiale? Beh, io sono solito definire, comunque descrivere questa attività in due fasi perché basandomi sui risultati che sono giudiziari, mi piace ancorarmi ai dati oggettivi, quindi fare delle valutazioni sulla base dei fatti. Allora, ci sono due dati oggettivi, dal ritrovamento dei fascicoli, quindi dal 1994 al 2002 che è l'anno in cui io prendo la direzione della procura militare della Spezia e in tutta Italia vengono celebrati a seguito di questo ritrovamento quattro processi. Lasciamo perdere Frippche perché Frippche è quello che determina il ritrovamento. Ecco, successivamente dal 2003 al 2008 alla Spezia ne vengono celebrati 11 e poi a seguito della soppressione della procura militare della Spezia e i fascicoli che erano in carico alla Spezia vengono distribuiti fra Verona e Roma, poi se ne celebrano altri 6 per un totale di 17 processi. Ecco, questo è un dato di fatto, quindi poi abbiamo detto prima, abbiamo citato dei numeri, 57 condanne dal gastro nel primo grado per questi processi, circa 80 rinviati a giudizio, tra i 57 e gli 80 ci sono sostanzialmente una decina di assoluzioni e una decina di sentenze in un luogo a procedere per morte del reo perché erano i soggetti che sono deceduti nel corso del processo. Io questi dati li ho evidenziati, li ho raccolti nel mio saggio e li lascio alla valutazione del lettore. Abbiamo parlato delle tante stragi avvenute in Toscana, qual è il punto processuale dei processi che lei ha condotto, a cosa hanno portato, di quali stragi stiamo parlando? La Toscana insieme all'Emilia Romagna erano due delle quattro regioni che erano nella competenza della procura militare della Spezia che aveva anche poi una parte della Liguria e una parte delle Marche. Sicuramente la Toscana è una delle regioni più ferite da queste vicende, più colpite, quindi ci sono centinaia di episodi, oltre 4.500 vittime da crimine di guerra. Abbiamo avuto quindi parecchie indagini, io ora non ho il numero esatto, una volta l'avevo fatto questo censimento, ma tra l'altro è un censimento che avevo fatto alla Spezia, quindi non è neanche completo, perché poi dopo tuttora abbiamo ancora qualcosina in corso. Quindi possiamo parlare sicuramente di circa 200, almeno 200 indagini sul territorio della Toscana, questo sicuramente. E poi sono stati fatti i processi importanti, perché è stato fatto il processo per la strage di Sant'Anna di Sazzema, quello per la strage della Certosa di Ferneta vicino a Lucca, la strage di San Polo di Arezzo, la strage di Civitella in Valdichiana in Arezzo, la strage di Falsano di Cortona in provincia di Arezzo, l'eccidio della Grotta Maona a Montecatini termine. La strage di San Terenzo vinca tutte le frazioni di San Terenzo nella provincia di Massa, ho avuto 350 vittime, è un altro processo molto importante, la strage del paduro di Fucecchio, Pistoia, quindi altre 186 vittime. Questi sono i processi che hanno riguardato la Toscana, quindi tutte le stragi e poi naturalmente anche le stragi dell'Appennino tosco-emiliano, quindi Stia, Vallucciore, Monte Falterone, Monte Morello, Castagno d'Andreas, tutte quelle vicende della primavera del 44, la strage anche di Momio vicino a Privizzano, una provincia di Massa, ecco, anche quello è un altro processo che è iniziato alla Spezia e poi è terminato a Verona. Ecco, questi sono dati significativi, insomma. Ho definito il suo grande lavoro, il vostro grande lavoro quasi una Wikileaks nel passato, perché voi vi siete ritrovati a scaricare un file con 695 faldoni, a doverlo esplorare, a capire, a chiedere altri documenti, eccetera. Avete istituito anche un gruppo speciale investigativo sui crimini di guerra, ci parla del suo metodo di lavoro, del vostro metodo di lavoro? Allora, le indagini su questi fatti sono state complesse per vari motivi, sia per motivi pratici, per motivi organizzativi e per motivi anche naturalmente giuridici, ecco, quindi sono vari, i profiti sono vari. Quelli giuridici naturalmente la formazione della prova è difficoltosa, perché è chiaro che ricostruire un fatto che è avvenuto 50 anni, 60 anni prima è difficile, la prova testimoniare è una prova molto debole, perché si può far ricorso solo a ricordi che spesso non sono molto nitidi, netti, insomma precisi. Quindi abbiamo dovuto valorizzare molto la prova documentale, quindi i documenti di archivio militare, sia tedeschi che alleati, i documenti, ecco, ci siamo fondati molto anche sulle precedenti inchieste giudiziarie, quindi per i processi e le indagini svolte dagli alleati nell'immediato dopo guerra o nell'immediatezza dei fatti ancora durante la guerra e di qualche processo o comunque indagine che era stata avviata anche in Italia nel dopo guerra. Questo è stato molto difficile, diciamo, naturalmente, poter utilizzare poi dal punto di vista probatorio questi elementi nel processo. Poi c'è stato un problema, naturalmente un grandissimo problema di carattere organizzativo. Infatti mi è piaciuto cercare di dar conto anche nel saggio, nel volume, di queste cose che possono sembrare scontate ma non lo sono. Ognuno di questi processi è molto complesso, noi ne abbiamo fatti 11 o con centinaia di indagini, quindi c'era un problema proprio di volume di carta, di volume di attività da fare. Quindi c'era un problema proprio di organizzare uomini, mezzi e cose. Quindi ho dovuto inizialmente proprio fare un progetto, diciamo, perché io avevo un ufficio piccolissimo in cui c'erano praticamente una procura militare della Spezia che contava una ventina di persone, cioè tra cancellieri impiegati. C'erano tre carabinieri che naturalmente non avevano nessuna competenza specifica, investigativa particolare su cose del genere. Quindi ho dovuto innanzitutto costituire un nucleo investigativo adeguato, adatto a questa vicenda. Quindi persone, investigatori, persone abituate a fare le indagini e persone che naturalmente per poter fare indagini di questo tipo occorre anche avere la padronanza della lingua del paese straniero con il quale si interloquisce, quindi la Germania. E quindi la prima cosa che feci chiesi al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di staccarmi un certo numero di carabinieri bilingue dall'Alto Adige per poter iniziare. E questo primo nucleo di tre carabinieri poi si è via via aumentato nel tempo, perché naturalmente con i risultati che cominciavano a venire c'era anche, avevano modo di far vedere anche pubblicamente, sia a portare i comandi generali della finanza dei carabinieri e che c'era la necessità di aumentare. Quindi siamo arrivati poi a un certo punto a un numero di circa 11-12 unità, reperite un po' come si poteva, diciamo, dall'Alto Adige o comunque dalle sedi più vicine tra finanzieri e carabinieri, quindi i due comandi generali ci hanno aiutato. E poi abbiamo dovuto naturalmente sistemare, trovare anche i mezzi, perché se io ho un ufficio di 20 persone, non ho queste belle sale grandi e spaziose come vediamo qui, avevamo degli uffici molto piccoli, quindi abbiamo dovuto ripetere dei locali, perché praticamente abbiamo aumentato di un terzo, di circa un terzo il numero del personale, non è una cosa da poco, quindi mezzi, scrivanie, locali, telefoni, e macchine, insomma tutto. E questo non è stato molto facile naturalmente, però all'italiana maniera ci siamo arrangiati. E poi naturalmente c'era anche l'aspetto del coordinamento di queste indagini con l'estero e anche la poi allocazione delle decine di migliaia di documenti che nel frattempo introditavamo, perché noi poi abbiamo acquisito decine di migliaia di documenti, ma bisogna avere anche dello spazio e degli archivi per poterlo fare e persone che ordinate o che possano organizzare loro. Insomma è stata veramente un'operazione anche molto complessa dal punto di vista pratico. E quindi venendo poi al metodo investigativo di cui parlavamo abbiamo naturalmente cercato in assenza o comunque con la scarsa presenza di testimonianze, perché quelle erano purtroppo scarse, di basarci sui documenti. Quindi documenti significa andare a scandagliare gli archivi tedeschi per ricostruire esattamente la composizione dei reparti e quindi poi risalire dalla composizione dei reparti alle persone e quindi poi verificare la loro esistenza in vita e poi provvedere a interrogarle e a contestare i fatti in funzione dei documenti acquisiti. Quindi è stata tutta un'attità un po' a scatole cinesi che in questo tra l'altro siamo stati anche abbastanza agevolati, devo dire, dalla polizia tedesca perché a un certo punto abbiamo avuto dei buoni rapporti che ci hanno consentito di fare delle cose che… Rau, Presidente della Repubblica Federale di Germania, nel 2002 insieme a Carlo Azzelio Ciampi, il nostro Presidente, va a Marzabotto e rende omaggio alle vittime di quel leccidio nazifascista. Testualmente dice davanti anche ai familiari delle vittime «Oggi sono qui per commemorarne le vittime. Il mattino di quel giorno arrivarono assassini che indossavano l'uniforme nera, come iene cancellarono ogni traccia di vita umana. La colpa personale ricade solamente su chi ha commesso quei crimini. Le conseguenze di una tale colpa invece devono affrontarli anche le generazioni successive. Sono pervaso da un profondo senso di dolore e di vergogna. Mi inchino davanti ai morti». Il 2002 è anche l'anno di svolta, lei arriva alla Spezia e inizia, immagino, come lei racconta nel libro, una collaborazione fattiva con le autorità tedesche, dalla polizia alla magistratura. Tra l'altro nel libro racconta anche un aneddoto personale perché lei sempre in quell'aprile riceve una telefonata da Monaco di Baviera. «Ce la racconta?» «Ce la racconta?» «Sì, come forse talvolta accade nella vita, ci sono dei momenti e delle coincidenze, delle convergenze. Nella metà di aprile del 2002 ci furono alcune convergenze. Il Presidente della Repubblica Tedesca Rauve venne in Italia e venne a parlare a Marzabotto a chiedere scusa, perdono per quello che era successo e quasi contemporaneamente io mi accingevo ad assumere le funzioni di capo della Procura Militaria della Spezia che assunsi il 22 di aprile. Se non ricordo male il 17 aprile Rauve con Ciampi salirono a Marzabotto, Montesole e io proprio in quei giorni, il giorno esatto non lo ricordo, ma comunque era sicuramente tra il 17 e il 22, ricevetti una telefonata sul cellulare, quindi non ero pronto, dal Procuratore della Repubblica di Monaco di Baviera che si chiamava, che si chiamava Vic, ora ha cambiato funzione, altrimenti è un magistrato tedesco, il quale mi offrì la massima collaborazione per il massimo sostegno del suo ufficio per le indagini che erano in corso sulle stragi giornali, soprattutto di Marzabotto e Sant'Anna di Sanzè, ma comunque su quelle che l'ufficio che andavo a prendere aveva in corso, anche sull'ondo, proprio sulla scia dell'iniziativa del Presidente Rauve. Lo scrittore francese e moralista Jean Delabruyet ha detto che un innocente condannato ingiustamente è una faccenda che riguarda tutte le persone oneste. Vorrei affrontare con lei, Procuratore, quello che è il tema dei volti, delle storie, delle facce, dei protagonisti di quelle vicende, a partire dalle vittime, dai loro familiari, dai sopravvissuti, ma anche dall'altra parte quella dei criminali nazisti ottoagenari, che ormai sono morti o comunque erano vivi ai tempi del processo e comunque hanno tanti anni, 90 anni. La domanda che le faccio è che molti l'avranno fatto e che è un sentire comune, ma ha senso processare dei novantenni, dei vecchi? Allora, per quello che riguarda il rapporto con i sopravvissuti e i familiari delle vittime, io ho, diciamo, con me si è instaurato immediatamente un rapporto particolare, perché io ho avvertito personalmente una necessità di fare qualcosa, ho immediatamente percepito diciamo al di là di quello che era il mio incarico formale, però proprio anche come cittadino, come uomo, oltre come magistrato, la necessità di dare delle risposte, perché è un… insomma, io ebbi proprio una… andandomi a incocciare, quindi entrando in queste cose, ecco, mi desi conto che era una situazione assurda, paradossale, cioè una… noi perseguiamo i delinquenti, diciamo, ecco, anche quelli più… anche il ladro di polli, insomma, o il disertore, o una persona che dà un pugno a un altro… ecco, e poi lasciamo, come era possibile lasciare senza risposta migliaia e migliaia di famiglie, di persone che avevano subito un oltraggio del genere, un dolore del genere, un dolore che era vivo, che era reale, perché io sono passato, nel rapporto con queste persone, sono passato dalla teoria alla pratica in un secondo, cioè quelle carte che avevo letto, che sembravano cose lontane, si vivificavano, si impersonificavano in persone che erano lì davanti a me, non erano delle… non erano dei documenti, delle carte, questo poi fu ancora più evidente quando andai a interrogare i carnefici, cioè i responsabili. E quindi io mi resi conto di essere entrato in una realtà che ignoravo completamente e che mi sembrava che quasi tutti attorno a me ignorassero, ecco. Quindi, e quindi chiudo la risposta con la seconda domanda, questa domanda mi è sempre sembrata inconcepibile. A un certo punto, dopo un po' di anni, quando qualcuno come lei me l'ha posta, ho provocatoriamente risposto dicendo che era una domanda insolente, perché aveva un nucleo di insolenza, come si fa a dubitare che si debba perseguire il carnefice irresponsabile di crimini così efferati, che andrebbero perseguiti per senso comune, per ragione, per diritto di natura, ma che peraltro sono previsti, la cui punizione è prevista e obbligatoria per legge. Quindi cosa c'è da stupirsi nel fare semplicemente il proprio dovere, cioè nel cercare il colpevole e fargli rendere conto di quello che ha commesso. La filosofa Anna Arendt, nel dare conto del processo al gerarca nazista Eichmann, che fra l'altro è uno dei maggiori responsabili dell'eccidio degli ebrei, dello stermino degli ebrei, parla della banalità del male. Nessuno era responsabile, o meglio nessuno si sentiva tale. I nazisti facevano solo il proprio lavoro. Eichmann stesso si sentì vittima di un'ingiustizia ed era profondamente convinto di pagare per colpe di altri. Dopotutto lui era solo un burocrate che eseguiva degli ordini. Anche lei si è ritrovato nella sua indagine avere a che fare con criminali nazisti che hanno portato questo stesso argomento. E poi c'è una differenza fra soldato che esegue un ordine e un criminale di guerra. Mi sono posto più volte questo quesito, questo dubbio. Chi sono io per poter compiere questa attività nel momento in cui il mondo è andato da un'altra parte. C'è stato chi ha insabbiato, chi ha occultato e tra l'altro presumibilmente con delle ragioni di carattere politico non note ma sicuramente esistenti. Ci sono stati dei condoni, ci sono stati geracchi nazisti che sono stati perdonati, sono stati scacciati. Adesso noi nel 2000 all'epoca, nel 2003 io mi trovo a dover inseguire alcuni criminali. Quindi questo problema me lo sono posto. Però ho trovato la mia unica risposta nella legge. Cioè la legge è in vigore, la legge lo prevede. È un crimine che non è prescrittibile. Non c'è nessun governo, nessun Parlamento che abbia in questi 50 anni, né tuttora sapendo che queste indagini sono in corso, che mi dica di fare in maniera diversa. Io sono obbligato a farlo. Sono obbligato a farlo e sono anche ben contento di farlo, visto che si tratta del massimo concepibile del male. E poi, venendo più specificamente alla sua domanda, mi sono anche ancorato all'individuo. Ognuna di queste persone ha avuto la possibilità di scelta, di scegliere e ha scelto di commettere questo crimine. L'ha commesso per debolezza, per paura. Non sono circostanze che la legge prevede come scusanti, come giustificazioni, come scriminanti. C'era un condizionamento, ci è stato certamente un condizionamento, ma ognuno vive nel suo tempo e quindi quelle leggi erano in vigore anche in quel tempo. Quindi, poiché non tutti hanno fatto quella scelta, grazie al cielo la grandissima parte, gran parte dei tedeschi non ha fatto quella scelta, evidentemente era possibile non fare quella scelta. E quindi io intimamente ho risolto così il mio dubbio. Peraltro, ecco, questa riflessione mi consente di fare anche un'altra osservazione, perché mi rallaccio a quella parte del discorso del Presidente Rau che lei ha letto poc'anzi, in cui il Presidente, se non ho capito male, distingue fra le responsabilità individuali e quelle della Germania. E io mi permetto di dissentire, perché quelle persone che hanno massacrato quei bambini, migliaia e migliaia di uomini, donne e bambini in Italia e in Europa, non soltanto in Italia, non sono andati lì in gita turistica, sono andati vestiti con uniforme, con delle armi, con degli ordini, con un'organizzazione che gli ha dato il proprio Stato, il proprio governo. Sono stati cresciuti, sono stati addestrati secondo l'ideologia di quello Stato, che non è certamente lo Stato della Germania di oggi, ma era il loro Stato. Quindi dire che la Germania non abbia una responsabilità diretta in queste cose a me sembra, non sembra corretto. Uso un eufemismo, ma mi sembra che non sia del tutto corretto. Questa distinzione io non la vedo tanto. Io credo che quei soggetti sono figli del loro tempo, sono nati in una cultura di quel tempo che era la cultura dello Stato nazista di quel tempo, cioè della Germania di quel tempo. E quindi la Germania non si può lavare le mani oggi di quello che hanno commesso i suoi sottoposti, i suoi rappresentanti, perché i militari che hanno combattuto in Europa per la Germania rappresentavano la Germania, avevano la bandiera tedesca, oltre che la svastica, che innalzavano sui loro reparti, non erano lì per conto proprio. Quindi questa è una cosa che secondo me va tenuta presente. La Collana è curata da lei, procuratore militare, e Paolo Pezzino, storico dell'Università di Pisa e attivo da anni su questi temi. Vorrei sapere come avete lavorato insieme in questi anni, da quando vi conoscete, e soprattutto che tipo di collaborazione avete instaurato, perché presumo che ce ne sia stata una anteriore per istruire i processi, anche una consulenza storica, eccetera, e una poi per realizzare questa collana che è ancora in corso. Guardi, io ho conosciuto Paolo Pezzino sempre nell'aprile del 2002, questo meraviglioso mese di quest'anno che ha contraddistinto la mia vita. Paolo venne in quello che sarebbe stato il mio ufficio, noi ci siamo incontrati, tra l'altro io ancora non avevo preso materialmente le funzioni, quello che poi sarebbe stato appunto l'ufficio che andavo a dirigere, offrendomi la sua disponibilità e quella del Dipartimento che dirigeva l'Università di Pisa per le nostre indagini dal suo punto di vista storico. Io per lì presi del tempo perché non avevo ancora, tra l'altro, le idee chiare, dovevo verificare come erano le cose. Poi col passare del tempo ho capito che se volevo raggiungere qualche risultato dovevo appoggiarmi a delle solide basi, quindi avevo necessità intanto di avere, come poi è stato il supporto degli enti territoriali, delle comunità che hanno sostenuto il lavoro, ma anche le solide basi scientifiche di qualcuno che mi doveva aiutare nella ricostruzione dei fatti che io ignoravo completamente perché non si è dei tuttologi, non è che uno perché è magistrato, pubblico ministero è un aspetto di tutto e quindi occorreva anche avere un, fare, mi si perdoni la battuta, un po' un corso accelerato di storia moderna e contemporanea e poi avere anche delle fonti, delle fonti probatorie da poter utilizzare perché è rapidamente, poi soprattutto perché il problema era anche quello del tempo, paradossalmente dopo tanti anni bisognava anche correre, questo era un evento in paradosso e quindi l'incontro con Paolo Pezzino fu importante perché mi consentì poi di gettare le basi per una articolata elaborazione di consulenze che dovevano avere il duplice scopo di aggiornarci, aggiornarmi su una materia che non conoscevo e acquisire anche delle informazioni, delle fonti probatorie, cioè fonti testimoniali e documentali che evidentemente noi ignoravamo perché per poter, come ho detto, la maggior parte delle nostre prove per i processi non proprio documentali, ma bisognava sapere in quali archivi, dove e che tipo di documenti acquisire, quindi Paolo Pezzino e Carlo Gentile furono i primi due storici con i quali io ho collaborato e che hanno consentito di sviluppare tutto il lavoro, peraltro anche psicologicamente fu anche un grosso aiuto perché in quella solitudine di queste indagini avere il conforto di persone scientificamente elevate con grande esperienza che mi supportavano era importante perché non mi facevano sentire un marziano sulla terra. La regione toscana da anni coltiva la memoria in vari modi, con varie misure, penso al treno della memoria che ogni due anni porta centinaia di ragazzi nel campo di concentramento di Auschwitz oppure la pubblicazione di questa collana che ritengo molto importante per fare memoria appunto. Ne ringraziarla per il suo prezioso lavoro sia giudiziario che poi anche divulgativo con questi libri, vorrei chiederle cosa vuol dire per lei coltivare la memoria? Ecco, questo tema della memoria è un tema che mi è diventato caro, che prima io ignoravo. Io penso che innanzitutto fare memoria, avere memoria significa avere consapevolezza di quello che si è, perché vuol dire conoscere e ricordarsi quello che si è, perché noi non possiamo che essere quello che eravamo e da dove venivamo. Quindi fare memoria significa per me acquisire quei contenuti anche spirituali, quei valori che danno poi senso alla propria esistenza, alla propria essenza e che poi aiutano a formarsi e poi a orientarsi si spera verso obiettivi, orizzonti positivi, insomma destinazioni positive. Quindi da questo punto di vista, ecco, sia l'attività giudiziaria che quella, l'attività giudiziaria di questo tipo e sia la riflessione scientifica, la ricerca storiografica possono essere utili. Grazie procuratore, è davvero stato molto gentile essere qui con noi oggi pomeriggio. Per terminare, due parole sulla collana. La difficile giustizia è Sant'Anna di Stazzema, sono i libri che Marco De Paulis e Paolo Pezzino ed è uscita a Cefalonia, hanno curato per la casa editrice Viella appunto una collana dedicata ai temi che abbiamo trattato in questa intervista. Collana finanziata dalla Regione Toscana, su proposta dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Se ne volete sapere di più, per approfondire, naturalmente è disponibile il sito dell'editore Viella ma anche la pagina Facebook Toscana Memoria e sul sito istituzionale della Regione Toscana Storie e Memorie del Novecento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.